Siamo con Marco Meschini, direttore sportivo del Fossombrone. Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito a Scienziate nel Pallone. Grazie a voi. Direttore, c'è un po' di amarezza per i due punti persi ieri all'ultimo secondo, però c'è anche da valorizzare quello che è stato un inizio di campionato da favola del vostro Fossombrone. Ve lo aspettavate un inizio così un mese fa, un mese esatto dall'inizio del campionato? Ma un mese fa quasi ancora stavamo festeggiando la promozione, diciamo. Noi abbiamo smesso il 21 di giugno, quindi siamo stati probabilmente gli ultimi a ripartire. Chiaramente, guarda, forse una delle nostre qualità in questi quattro anni, in cui siamo cresciuti pian piano, dalla salvezza all'eccellenza alla vittoria del campionato e dei play-off, è sicuramente quello di non porsi obiettivi troppo a lungo raggio. Per cui anche quest'anno si è ripartiti consolidando il gruppo che avevamo, cercando di inserire qualche verra gatto che la categoria l'avesse fatta e cercando di riuscire a prendere qualche giovane che potesse darci una mano. E poi dopo il resto, per ora, lo sta facendo la qualità con cui il mister allena quotidianamente e la voglia e la curiosità, dai, di affacciarsi a un nuovo campionato. Direttore, nonostante la giovane età, sei già il tuo quarto anno come direttore sportivo del Fossombrone. Vuoi farci un po', so che è difficile, ma un riassunto di questi quattro anni, a partire dalla sconfitta, diciamo, dalla tua prima delusione tre anni fa con lo spareggio proprio contro il Porto Lascoli, che poi salì in Serie D per la prima volta nella sua storia, fino al culmine dell'estate scorsa, lo accennavo poco fa, in cui dopo 74 anni invece siete stati voi a tornare nel massimo campionato direttantistico. Sì, in realtà diciamo che questo è l'inizio del quinto anno, quindi in questi quattro anni noi abbiamo preso una società che negli anni precedenti era solita salvarci o ai play-out o comunque sia a ridosso delle ultime giornate. Noi in questi quattro anni abbiamo vinto due Coppi Taglie, di cui una col Porto Lascoli e una con l'Atletico Lascoli. Abbiamo fatto le fasi nazionali della Coppa, perdendo ai quarti nazionali col sasso maggiore due anni fa. L'anno scorso poi c'è stata comunque la sconfitta col Porto Lascoli nello spareggio del minicampionato, però è sempre un gruppo che ha mantenuto una giusta mentalità e una voglia di crescere. Poi l'anno scorso ce l'hanno lottata fino all'ultimo con l'Atletico Lascoli, siamo arrivati secondi a un punto e poi abbiamo fatto la cavalcata nei play-off regionali e poi nazionali e adesso dai ci godiamo questo campionato che è un premio secondo me per tutto il lavoro che è stato fatto in questi quattro anni. Quindi dobbiamo avere l'equilibrio mentale di goderselo sia nei momenti buoni come in questo, ma anche nei momenti meno buoni. E' stato poi il derby col Fano che poi si è risolto, abbiamo saputo, col 3-0 a tavolino per via del giocatore schierato da Granata che era squalificato, giusto? Sì, 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 ma infatti quello che noi teniamo a dire è questo. Naturalmente io faccio gli interessi della mia società, quindi abbiamo pensato come scelta quella di fare questo ricorso che poi agli atti ci ha dato ragione. Detto ciò, per come lavoriamo noi, noi quella partita sul campo la consideriamo persa, quindi in tutta quella settimana lì e in altre settimane siamo andati a valutare quello che non è andato, perché di fatto sul campo l'abbiamo persa 2-0, quindi diciamo che il frutto di questa classifica è sicuramente delle buone prestazioni che abbiamo fatto, ma al tempo stesso anche un po' di fortuna che forse ieri sia tornata un po' contro nel gol preso all'ultimo minuto. In vista della prossima partita contro la Samb le chiedo che idea si è fatto del rosso-blu e se c'è qualcosa che temete magari. Dico che giocare in ambienti del genere è un qualcosa di fantastico, dai, per noi che siamo una piccola città, cittadina, 9.000 abitanti, quindi riuscire ad essere protagonisti in campi del genere è qualcosa che ci rende orgogliosi e non vediamo l'ora di affrontarla. Detto ciò sappiamo che la Samb è una squadra fortissima, quest'anno è una società molto ben organizzata, quindi a tutti gli effetti. Adesso non lo dico solo perché ci giochiamo contro, ma è probabilmente la favorita numero uno per il blasone della squadra, per il blasone della società, ma soprattutto anche per quello che porta la tiposeria, una tiposeria che sicuramente porterà tanti punti. Tra l'altro c'è una curiosità che ci sono due ragazzi del vostro organico che contro la Samb ci hanno giocato e sono Battisti e Rovinelli, due ex portodascoli che hanno già giocato a Riviera, quindi sono due ragazzi tra l'altro che hanno già giocato a Fossombrone e adesso sono tornati nel calciomercato estivo. È stato un ritorno a casa. Sì, Rovinelli era il nostro tesserato che era in prestito al Porto Tasco, è un ragazzo del 2002 che ha, secondo me, dei valori importanti, quindi speriamo che li possa confermare anche in questo campionato. Battisti è un po' più navigato, ragazzo del 96 che ha tante qualità e è andato e venuto tre volte, diciamo, da Fossombrone e altre squadre, però è un ragazzo che merita, come tutti quelli che abbiamo mantenuto, di provare a stare in questa categoria. che ci tengo a dire che sarà una settimana comunque per tutto l'ambiente nostro gratificante perché essere sulle luci della ribalta, grazie chiaramente al volano che ti dà a giocare una partita come la San Beneltese, deve darci orgoglio, deve darci serenità nel preparare questa partita. Io la ringrazio, la ringrazio per la sua disponibilità e vediamo domenica e che vinca il migliore. Speriamo noi. Va bene, alla prossima. Alla prossima, grazie.